Buonasera a tutti dal vostro dispettosissimo amico etrusco e dal critico d'arte siamo qui a commentare Dinamo Chieve Fiorentina una partita che abbiamo letteralmente dominato con sesso palla alla grandissima c'era un rigore subito per la Fiorentina sì ce n'era alcun altro per loro quel calcione ha dato Savic all'Ucraino hanno fatto un gol fortunoso su una deviazione di Tontovic si sa un po' di infortuna come ce l'ha Allegri perché Allegri è fortunato è fortunato avere un cognome così e rischia magari se c'è un po' di infortuna di trovare in semifinale il Porto sì e il Porto ti riederessiamo ma insomma non è il Bayern di Molo ne è un Porto di Mare fa passare a tutti insomma che noi ora io penso non perché non so che sia di parte ma vedendo la Dinamo Chieve come gioca i giocatori e l'impianto di gioca che c'ha penso a Firenze non c'è verso dai essere eliminati poi tutto può succedere se ci sa un po' di fortuna di trovare il Dinibro o il Brugge c'è già la finale un po' di un finale normale trovi o Napoli o Siviglia o Zeni però tu te la giochi il Napoli te la può giocare si è visto l'anno scorso in Coppa Italia l'anno scorso si ha avuto sfortuna si saleggiava e si vincevano no aspetta tre partite ci hanno dato 7 a 1 questi cioè finale di Coppa Italia e poi quest'anno campionato in casa e l'ultimo era a Napoli 7 a 1 ci hanno dato non sarei così ottimista insomma l'equilibrio conta anche la fortuna e le decisioni abitabili io non penso che Napoli sia letteralmente più forte da Fiume diciamo c'è un'Iguaina in più noi abbiamo anche un Goffez è un fuori classe e poi c'è il Panterone che oggi ha realizzato una rovesciatina proprio alla Pele hai visto c'era veramente uno spazio ristrettissimo per far passare quel pallone comunque da Etrusco esperamos esperamos che che imos alla final la confianza imos alla final la confianza per ganare il partito si e passare al turno successivo si dice a si 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 sicuro è il turno successivo come si dice successivo è il turno prossimo è il turno prossimo è il turno prossimo un canale appunto diciamo anatomico ecco questo è il il calcio d'inizio quasi la formazione dei nostri ball di eroi a letto non ne puoi più l'aeroplanino ti ha fatto un po' non è che ne posso più l'aeroplanino ti ha messo come fuori causa il fuso orario dell'aeroplanino ti ha fatto fondere no le bronzine va bene allora noi ci salutiamo qui si salutiamo anche il signor 3F cioè Furio Valcareggi eh Furio fai festa ha osato Furio fai festa 3F perché ha osato sparlare parlare male di me ancora una volta cosa hai da dire a tal proposito di Furio Valcareggi è parecchio ottimista è sempre ottimista lui si vince sempre anche noi prima di giocare con la gobina eravamo già al finale un po' un po' come quei un po' come quegli ultrafessi e dopo dopo il 2 a 1 aspetta un po' come quegli ultrafessi e dopo il 2 a 1 di Torino sono andati a fare le feste lì all'aeroporto come se già fossimo un finale eh bravi eh cosa succede a vedere cioè a vedere a affidarsi delle delle dei commenti di Furio Valcareggi eh va bene allora noi ci salutiamo andiamo a Nanna e guarda c'ho anche già c'ho anche già il pigiama guarda c'ho il pigiama speriamo di ganare finalmente si finalmente si si dorme senza senza gli incubi causati dall'aeroplanino pazzo capito l'aeroplanino più pazzo del mondo che che un mette un mette diamanti in lista UEFA cioè gli fa comprare diamanti gli fa comprare diamanti e Gilardigno e poi un li mette in lista UEFA e poi dopo non li fa giocare neanche in Serie A in campionato non coppa nulla fa giocare sempre inutili inutili fa giocare no così così tu chiudi inutili capito? va bene? buonanotte a tutti buonanotte a tutti ciao al vostro amico dispetto Zistri Matrusco ciao 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 ciao